Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su MucchioDV Io sono VGFuture, oggi siamo su Red Dead Redemption di Playstation Now Sono con Mr. Creep E mo ci andiamo a fare un cuovo, così lo proviamo pure Ragazzoli, lo state provando Red Dead Redemption? Sembra che vada abbastanza bene Ovviamente la definizione è quella che è Però poter rigiocare vecchi classici è sempre una cosa carina Ma la cosa migliore è il fatto che non si debbano installare i giochi Perché già sono installati di base Questa penso che sia una delle rivoluzioni che poi ci saranno nel mondo videoludico Cioè il fatto di poter giocare in streaming Ovviamente ragazzi, se in futuro avremo linee più performanti Parlo almeno per quanto mi riguarda Ci sarà la possibilità magari di giocare in 1080 E chissà, magari in futuro pure in 4K Tanto sta Mr. Creep che si è scordato completamente come seguita Su Red Dead Redemption No, perché a volte non capisco se è il gioco oppure se è una linea E beh, tu tieni la linea veloce, non dovresti avere problemi Comunque guardato, prima c'è il tuo giocatore avevi tre tacche come conoscete Ah, non sapevo che si potesse vedere Eh, ma... Però quello lì era in game Cioè, quello dovrebbe dipendere dai server della Sony Quindi non della mia connessione direttamente, hai capito? Beh, dovremmo essere vicini al covo Madonna, si è buttato... si è spaccato la testa No, dovrebbe essere da queste parti, qui Scaccia dal range tutti i ladri di bestiame Ah, pensavo avessi selezionato... No, eppure io pensavo quello là Vabbè, ci facciamo questo È uguale Occhio che qua non è facile Alle prime battute Cioè, come stiamo messi noi, più che altro Ma dove le ha preso che c'è? Eh, l'ho rubato Io devo lampeggiare qualcosa Vabbè, non ti preoccupare Che poi man mano ti sblocchi le cose Cioè, non è un problema Ah, finalmente la doppia Occhio Vedi che ci stanno questi qua delle armi Ah, cazzo Addirittura Addirittura che si è fatta ammazzare Eh, perché sono entrato dentro Che cavolo mi sta sparando? Che inizio una mi sta... Occhio che... Sulle bandierine C'erano i fucili Di precisione Ah, infatti Ah no, munizione per tutte le armi Ok, rendi sicuro il fionile Madonna Pensavo... Pensavo che era uno dei cattivi No Comunque nonostante questo Si sente che si sta... Che sto giocando in streaming Vedo piuttosto scuro Devo dire la verità Eh... Niente Mi hanno ucciso con un Harry a ripetizione Vabbè Che il gioco era abbastanza scuro Eh, non è che... Sì, beh Manca l'ultimo Deve stare qua Ah, ma qua stanno quelli che buttano le dinamite Te la ricordi? Sì Oddio Qua ce ne stanno due Vale Ok Questi due li ho fatti fuori Sembra che loro non buttano le dinamite però Sì Sì, l'aveva tutta Ok Ho ammazzato l'ultimo Continua Arma, carabina, ripetizione Mi ha sbloccato E mi è andato a livello 2 Eh, guarda Non ti potresti pure ricaricare vicino alle... Eh... Aspetta cosa c'è la... La caccia... La taglia Aspetta cosa fa No, vabbè ce ne sono varie No, ma è come della banda E come... La caccia la taglia Oh, però ti dico la verità Non è male Cioè No Al momento questo qua mi piace di più dell'online Vabbè che... Dell'online di Red Dead 2 Vabbè che quell'altro Se giochi da solo non ti diverti Un po' come... Questo qua poi alla fine Mo sto giocando con te ma Giocare online da solo È assolutamente Fastidioso La cosa qua ci sta il mulo Mo sto prendendo il mulo Chiama il tuo mulo Che andiamo a farci magari l'altro covo Eccolo là Mo metto il waypoint Aspetta Vediamo se mi ricordo Allora Ah, sì, 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 sì A peak basin Me lo ricordo Quel covo lì Poi sta pure nell'online del 2 Ma pure nel single player Eccoci qui Questo Sì, sì Sì, 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 ci sta Peccato che vedo Vedo veramente male Cioè o meglio Vedo scuro Ma tu che hai un monitor 2k Mi dici come vedi? Non male, ma guarda che ti devi regolare le protezioni dell'immagine del gioco Ok, che vai? Però sta roba Sta roba che Diccavano le armi Non mi ricordo mai l'arma esplosiva è certo l'ho presa perché ho vinto la abbiamo vinto ora non ce l'ho più quando si muore la perdi che è successo sono morto chi li ha ammazzato l'ho steccato sulla schiena ma sei un pazzo perché sono caduto sono caduto dal diruppo no sei tornato nell'oblivion chiamati il cavallo cioè il mulo più che altro qua da una parte c'era l'evanza ripetizione mi ricordo infatti eccolo qua preso grande evans a ripetizione che mo è stato reso disponibile pure nel nel 2 da poco tempo è uscito un aggiornamento magari tu ti vai a fare l'altro covo perché vedi ce ne sono ancora due punti così ci dividiamo i compiti va bene vado di qua tanto se non mi fanno subito la pelle dovrei ricordarmi un attimino come non detto mi hanno fatto subito la pelle no e ti dirò c'ho un po di lag e vabbè ma tutti nella super fibra la va bene vado di qua Grazie a tutti. Peccato che non c'ho la dinamite. Anch'io. Che qua con la dinamite si facciano bei macelli. Ma hai piazzato la bomba? Sì. Senza ucciderli? Certo che l'ho ammazzato. Non mi ricordo dove è la bomba. Vabbè te lo segna sulla mappa. Quanto lo amo le avanzarrivedizioni. Ti ricordi quando succedevano i bug che non arrivavano i nemici? Sì me lo ricordo. Erano dei problemi legati secondo me al server. No su questo gioco ci sono tanti di quei bug madonna. Ci sono ancora due nemici che a quanto pare, per esempio in questa mappa qui, questo covo qui, succedeva che non si riusciva... Nella pietra e non si riusciva più a giocare. Quindi praticamente avevi finito una partita e non la potevi finire perché non potevi ammazzare. Infatti ora ce ne stanno già due che non riesco più a vedere. Ora vediamo se li vado a prendere da sopra, se riesco a beccarli. Vorrei capire dove sono finiti questi due. Allora io quale ho fatto? Ah quelli lì l'hai ammazzati tu. Allora mancano solo gli altri due. Non li vedo. Non vorrei... Guarda sulla mappa dove sono. Eh non lo so. Dovrebbero stare ipoteticamente dall'altra parte. Sono sopra comunque. Il mio mullo si è suicidato, ottimo. Eh mi sa che... Ecco mi sono suicidato pure io. Che palle quando è così ragazzi. Che palle. Li vedi? Sono qui eh. Ah li vedo, li vedo. Quanto lo rimpiango il carcano. Oh. Yeah. A livello... Adesso abbiamo la dinamite. Sì, mo' si può prendere. Che livello stai? Livello 2. Yeah. Va bene ragazzuoli. Abbiamo fatto insomma questo... Il primo ingresso su Red Dead Redemption 1. Madonna da quanto tempo il mucchio selvaggio non tornava. Su PlayStation Now. In streaming che devo dire non è niente male. Quindi magari si potrebbe considerare l'abbonamento in futuro. Chi lo sa. Vabbè. Allora da me e da Mercer Creep. Qui era tutto. Noi ci vediamo la prossima volta. Noi ci vediamo la prossima. Noi ci vediamo la prossima. Noi ci vediamo la prossima. Grazie a tutti.